Amiche e amici di Granata, bentornati su Torino Channel. Ieri sera la squadra e lo staff del Torino FC ha avuto modo di provare un'esperienza sensoriale messa a disposizione dalla cooperativa Bilnova e volta a sensibilizzare sulla disabilità visiva. Dark on the Road infatti consiste in un track all'interno del quale si può provare l'esperienza di essere alla totale oscurità di un bar gestito completamente da ciechi e ipovedenti. Questo anche per capovolgere il ruolo di accompagnatore e accompagnato. Noi ne abbiamo parlato con il direttore Ferdinando Ceccato e con il presidente Giuseppe Fratea. Direttore buonasera, ci racconta come nasce questa esperienza? È un momento di sensibilizzazione, rivolto alla popolazione andiamo anche nelle scuole perché sensibilizzando le persone conoscono la nostra realtà e quindi di conseguenza poi anche per noi la vita diventa più semplice se le persone sanno le nostre difficoltà ma conoscono anche comunque le nostre potenzialità. Presidente, invece questa sera siamo con il Torino, è stata una bella esperienza penso per tutti quanti, i giocatori ce ne hanno parlato molto bene. Come avete interpretato questa esperienza? È stata un'ottima iniziativa, si sono proposte anche bene, hanno fatto un sacco di domande. Io vi do appuntamento al consueto collegamento di questa sera e vi ringrazio per averci seguito. Come sempre, Forza Toro! Grazie a tutti!